Come abbassare immediatamente la pressione in modo naturale? Come abbassare immediatamente la pressione in modo naturale, bastano pochi secondi Circa una persona su tre soffre di problemi di ipertensione, e il rischio di soffrirne aumenta con lavanzare dalletà. . Per fortuna esistono dei rimedi naturali che ci aiutano a regolare la pressione, riportandola a livelli sani e contribuendo a prevenire condizioni come infarti o altre malattie cardiache. . Acqua. Aumentare la quantità che si beve quotidianamente può ridurre i livelli di sodio nel nostro organismo, abbassando la pressione. Mantenere il corpo idratato aiuta anche a mantenere i capillari sani, migliorando la circolazione sanguigna. . Banane. Mangiarle con regolarità può abbassare la pressione grazie a due minerali essenziali, potassio e magnesio, di cui ne sono ricche. Entrambi i minerali aiutano il corpo ad eliminare sodio, uno dei principali responsabili dell'ipertensione. . Gli acidi grassi omega 3 possono abbassare la pressione del 20, secondo un recente studio. Due tipi di omega 3, EPA ed A, aiutano il corpo a pompare il sangue più efficacemente. . . L'olio di pesce riduce anche la formazione di placche nelle arterie, che possono compromettere la circolazione. .